Siamo davvero al rush finale della città del Natale, da adesso in poi sarà insomma tutta una volata, mi verrebbe da dire, fino all'Epifania. Sì, una volata lunga perché arriviamo al 7, diciamo con volumi decisamente diversi da quelli che abbiamo visto fino ad oggi. Fino al 7 gennaio Arezzo continuerà a brillare, non sarà dunque il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, a portarsi via a tutte le feste, come di solito accade. Le meraviglie della città del Natale andranno avanti, complice il calendario, fino al 7. Dalla Fortezza delle Meraviglie alla pista del ghiaccio, dai mercatini alla ruota panoramica, nella parte più alta della città, sarà dunque possibile vivere ancora la magia del Natale e perché no visitare anche i musei aretini. Sì, continuo fino al 7, sia al Prato che alla Fortezza, che San Jacopo e Piazza Risorgimento. Ripeto, l'anno scorso in quel periodo abbiamo avuto sorprese, nel senso che abbiamo avuto grandi afflusse musei, abbiamo avuto comunque gente, comunque prenotazioni. Quindi contiamo, confidiamo sul fatto che anche quest'anno prosega questa nuova tradizione. Una volta Natale finiva quasi tutto e negli ultimi due anni diciamo che è andata un po' diversamente e ovviamente siamo contenti. Questa rimarrà nella storia, ovviamente come l'edizione che ha frantumato tutti i record. Immagino che insomma dietro ai record poi ci siano state anche le polemiche. Come si reagisce a queste e come si migliora, lo ha detto anche il sindaco in conferenza stampa, una macchina che però insomma funziona a gonfie vele? Alle polemiche si reagisce non reagendo, nel senso che io capisco qualche disagio che c'è stato nel weekend dell'Immacolata, è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto un afflusso di persone che è stato anche superiore alle nostre aspettative, senza ombra di dubbio, favorito anche dal meteo perché noi in questa edizione del Natale per ora toccando ferro diciamo che siamo stati anche fortunati dal punto di vista meteorologico. Il prossimo anno è un problema che non si pone perché il prossimo anno è l'otto viare di domenica quindi non ci sarà questo tipo di problema. È chiaro però che su un meccanismo così grande, diventato grande, qualche punto di qualche nervo scoperto ce l'abbiamo e cercheremo di coprirlo. Il prossimo anno vedremo come organizzare la cosa, come pensare ai servizi accessori perché poi alla fine la manifestazione, la rassegna di per sé va bene, c'è qualche piccolo accorgimento da prendere e lo prenderemo. Sotto il profilo più che altro dei parcheggi, delle navette? Ma sì, diciamo che il problema quest'anno si è verificato con i posti auto perché sono arrivate tantissime auto in città, soprattutto tantissimi camper e i camper non abbiamo aree attrezzate tali da ospitare mille camper in tre giorni e non sarebbe giustificato perché non è la destinazione da camperisti, però se lo diventa bisogna prenderne atto.